La So, che è uno dei prodotti nuovi di quest'anno, gioca sull'equilibrio formale di una componente abbastanza classica del divano. Queste forme morbide con una struttura intelaiata in alluminio, che però è arricchita con il tema della corda e con questo rilancio al legno, al tec, senza però che nessuno dei vari elementi diventi predominante su tutti gli altri, perché poi alla fine il comfort, oltre che l'appeal visivo a dare al divano la caratteristica importante e fondamentale che deve avere. Riesce facilmente a essere ricordato per la forma, per questa texture che c'è su tutto il divano, un prodotto forte nell'immagine, chiaro nelle intenzioni e sicuramente su una fascia di prezzo decisamente abbordabile, pur tenendo la qualità ai livelli sempre molto alti che caratterizzano talenti. Veniamo da anni in cui abbiamo fatto delle collezioni molto più complesse, Cleo in tec, pulitissima, tirata, linee molto chiare, angoli vivi, eppure poi sdrammatizzati da una famiglia di lounge appese, di dondolini invece morbidi. È stata fatta poi la Milo, semplice nella forma e nel materiale, ma molto elegante nella finitura di tutta quella che è la cuscineria, gli abbinamenti di colore. Per poi arrivare alla collezione Eden, che è forse la più complessa e matura da un punto di vista di sviluppo tecnologico. Gli investimenti per la Eden sono stati massicci, nasce sempre da un divano che vuole essere cantilever, cioè completamente sospeso da terra con queste grandi gambe in pressofusione. Si è elaborato tantissimo sulle proporzioni e sulla tecnologia per rendere la struttura molto rigida. Poi è stato aggiunto questa sorta di ripiano che gira tutto intorno al divano, che aumenta la linearità e comunque nel mondo dell'esterno l'appoggio anche temporaneo per il bicchiere è sempre qualcosa di molto utile. Anche Eden ha poi una serie di sedute con un dettaglio molto interessante sulla parte dietro dello schienale, con questo inserto che viene incastonato nell'imbottitura a filo. Per poi culminare nel daybed, una sorta di belvedere all'aperto che ti permette di essere protetto dal sole quando vuoi, eppure anche racchiuso in un'alcova di relax e tranquillità.